amici trophy hunter andiamo a fare il trofeo la preferita e quale se non la mitica 500 e andiamo a comprarne una e vai bella 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 la nostra 500 e 1 e 2 io una l'avevo già comprata quindi in teoria ne devo comprare 9 adesso vediamo quando riusciamo a ottenere il trofeo e 3 se devo avere tante macchine uguali le voglio avere tutte della 500 e poi tra l'altro costa anche poco e andiamo con 3 e poi andiamo con 4 divertente questa cosa e vai e vai e 4 bellissima la nuova 500 e poi andiamo con la quinta e poi gli cambiamo tutte le livree ragazzi gli mettiamo tutte le livree diverse quinta perfetto e poi andiamo con la sesta blu potranno mettere più colori però guarda che bella blu guarda che bella blu guarda che bella blu e siamo alla settima abbiamo quasi completato il trofeo ragazzi il trofeo la preferita hai acquistato dieci volte la stessa auto acquistare raga potete prendere quella che volete quella che vi piace di più a me piace la 500 e vai e siamo a 8 mi ero perso dovrebbe mancarne una perché una io l'avevo già comprata era troppo bella se voi non ce l'avete dovete comprare dieci ed eccolo qua la preferita trofeo guadagnato ah ah bella raga bella raga bella raga ok e adesso chiaramente fatto il trofeo abbiamo dieci auto tutte identiche e bisogna assolutamente andare a caricare lo stile e incominciare a comprare livree a tutto spiano per avere almeno macchine diverse mamma mia qui mi è costata di più la livree della macchina eccoci qui va bene ragazzi da marco drums games channel è tutto trophy hunter mi raccomando mi raccomando di seguire il mio canale di mettere un mi piace condividere e commentare qui su youtube seguire il mio canale twitch marco drums games facebook twitter instagram e tik tok twitch twitter 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 youtube 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 che bordello che bordello quanti canali quante cose quante cose bisogna fare e seguire di marco drums games se mi piacciono le mie live e i miei video alla prossima con trophy hunter marco drums games e anche tutti i video world truth di gameplay e dei one edition ciao a tutti ragazzi e anche gli unboxing ciao amici